come si accende? di qua! non va buongiorno a tutti vi vedo tutti scompigliati oggi interroghiamo come? come? non puoi ripetere? si interroghiamo interroghiamo? oh interroghiamo? ma non aveva detto che andava avanti con il programma? io ho il libro ho l'evidenziatore e sono pronto ho cambiato idea ma come? ma professoressa non si fa ma la coerenza davanti a tutto cavolo e mannaggia la pupetta allora allora interroghiamo marini interrogato io? co che? che? interrogato interrogato e io come faccio adesso? avvicinati avvicinati sì sì un attimo devo prendere il libro ripasso due secondi devo solo studiare tutto il programma sì sì eccomi eccomi professoressa ci sono pronto per la domanda prontissimo anzi prontissimissimo eccomi sì sono qua sono qua chi è Cristoforo Colombo? sì sì Cristoforo Colombo è un nome che non mi è nuovo è Colombo 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 ah ma certo certo Colombo Colombo è colui che ha fatto quel viaggio attraverso il Po attraverso il Po è arrivato a Rimini e da Rimini è andato in Sicilia e poi e poi ha fatto un viaggio fantastico sensazionale ma certo quello è Colombo allora Colombo è un personaggio che attraverso il Po è arrivato in Sicilia no è arrivato a Rimini e da Rimini in Sicilia sì ci sono quella è la mia risposta mi faccio un'altra domanda ma allora non sei preparato? due preparato? io sono preparato anzi direi preparatissimo ma preparato ma proprio un botto preparato ma proprio tanto eccom insomma io il libro mi fa un baffo a memoria tutto preparatissimo ma cosa insegna questa? come si spegne adesso? ciao 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 ciao